ragazzi grande notizia bomba anche qui da torre del greco e per precisione da dietro alle panchine sopra il monte grande notizia bomba anche qui corriamo per perdere un po di peso infatti sono sceso da 97 kg a 78 circa solo la differenza è che tra me e bobo vieri lui lo fa perché vuole andare a giocare in cina e si vuole andare a pappare e a cuccare femmine soldi con la pala qua invece lo facciamo che dopo andiamo a lavorare ecco qualche chilo in meno dopo riusciamo a rendere meglio anche sul lavoro stasera andiamo a lavorare in pizzeria la differenza tra noi che stiamo volendo qua io e bobo che sta la formentera innanzitutto piccola parentesi torre del greco guardate bella formentera bella anche a re dei palazzini e a re del caumundo panorama torre del greco la notizia dicevo è che di bobo vieri la notizia bomba la differenza è che se ne fotte niente nessuno sei grande bobo comunque un bacione spero che ti arriva questo video perché sproni a tutti quanti andare a correre a perdere peso e a qualcuno anche andare in cina ti saluto dicendoti bobo sei grande sei un mito sei il nostro preferito